È un progetto vivo che ha registrato una forte sinergia e collaborazione nel tempo. Si tratta del rinnovato gemellaggio siglato sabato mattina presso la Sala della Concordia del Comune di Fano, tra la città fanese e quella tedesca di Rastat, situata sulle pendici nord-occidentali della Foresta Nera. Presenti all'appuntamento con la delegazione tedesca, oltre al sindaco Seri ed alcuni amministratori locali, il Vescovo Monsignor Andreozzi e l'assessore regionale Aguzzi, che ha ricordato il rapporto solido e instaurato sin dagli anni del suo mandato, basato su una vera volontà di creare un legame unico. 38 anni di rapporti istituzionali, scambi culturali anche legati al Carnevale Fanese, progetti artistici comuni ma anche sociali come Foresta Nera, Mare e Blu, importanti per alimentare i contatti tra disabili, ma di fondo un'amicizia vera e sincera. È un bellissimo rapporto, una bella storia di relazioni, di amicizie, di scambi, di trasferimenti di esperienze, di cultura e penso siano quelle cose che aiutano a far crescere anche le nostre comunità ma soprattutto far crescere anche uno spirito di appartenenza a qualcosa di più grande dove dobbiamo tutti viverci nella convivenza e nello scambio, nel piacere di crescere assieme. Oggi è stato un bel momento, queste occasioni sono utili sia per rafforzare e rinnovare l'impegno tra le due città che non dimentichiamo ha visto tante associazioni dallo sport al sociale alla cultura, incontrarsi tanti giovani attraverso le scuole, quindi tante belle esperienze e oggi in qualche modo le abbiamo anche ricordato e abbiamo anche ringraziato il sindaco Hans Puig di Rastad per il suo impegno al quale abbiamo riconosciuto anche una benemerenza della città. Un momento di emozione durante la conferenza che va oltre il rapporto lavorativo tra le due amministrazioni con un abbraccio fraterno fra il sindaco Seri e il sindaco Puig. Sì, noi abbiamo visto un rapporto che dura da 38 anni ma l'abbiamo visto anche con un fraterno abbraccio, un momento molto emozionante. Sì, è vero, in questi 38 anni sono nate delle meravigliose amicizie che hanno portato l'unione tra le varie persone ma è quello di cui noi oggi abbiamo bisogno anche per tenere unita la nostra Europa e le persone in Europa. Che cosa le piace di più di Fano? Fano ha notoriamente una storia culturale antica romana e la posizione della città, la suddivisione, la posizione al mare, la storia, la cultura, tutto quello che Fano offre è semplicemente meraviglioso. Credo che non ci sia città più bella in Italia di Fano. Sindaco tornerà a trovarci anche quando non sarà più sindaco? Sicuramente sì, anche perché sono nate amicizie, grandi amicizie con tante persone qui a Fano quindi tutti gli inviti che abbiamo ricevuto li accetteremo con grande gioia, io e mia moglie torneremo sicuramente a Fano.